Allora buongiorno ragazzi buona domenica a tutti stamattina video special come l'ambo special di luglio vi avevo detto continuate a giocarlo perché è un ambo che secondo me è molto forte sono arrivati tantissimi scontrini quasi tutti caricati sulla mia pagina facebook quasi una bugia perché ne ho veramente talmente tanti ancora ad aprire che è difficile anche perché era una previsione che è stata regalata non avete speso un centesimo e ieri sera 61 e 47 su firenze ovviamente questa previsione si abbandona si abbandona dopo vi faccio vedere anche il mio scontrino privato allora poi questa era la previsione in privato che vi avevo dato venezia nazionale 38 e 67 38 33 38 e uscita su torino 67 38 e per un punto non era terno perché è uscito il 34 ovviamente questo faceva parte del metodo dell'ambo garantito ed è uscito il terno su tutte chi l'ha giocato ha giocato la previsione completa e su torino è uscito il terno e pensate che per un punto per un punto non era quaterna su tutte e potete controllare tranquillamente chi ha il metodo che anche ieri sera abbiamo sfiorato per un punto la quaterna su tutto ovviamente questa era la previsione vedete 38 33 67 uscendo il 34 e per un punto non non dava alterno ovviamente chi aveva il metodo ha messo anche l'altro numero mancante non vi dico perché sennò gente capisce il metodo così e ieri ha fatto il terno su tutte non su ruota su tutte e per un punto non facevano la quaterna quaterna su tutte questo è quello che questo metodo sta continuando a fare sta continuando a pagare ogni estrazione è vero su questo su questa previsione non ha pagato non ha pagato su ruota perché vedete io sono sempre trasparente e sincero perché la previsione era venezia nazionale ha pagato un ambo su tutte ma questo metodo ha pagato il terno su tutte sfiorando la quaterna questo tutto testimoniato sulla mia pagina facebook poi questa era la previsione in privato bari cagliari che avevo messo su facebook quarto colpo di gioco bari 10 e 54 ed è uscito il 65 vertibile del 56 10 e 54 questa era la previsione bari cagliari perciò su su tre condizioni che vi avevo dato eccole qua una due e tre ieri sera hanno vinto chi ha giocato una cosa chi ha giocato un altro hanno vinto praticamente quasi tutti ovviamente ambo special di giugno ufficiale si abbandona non si gioca più ok venezia nazionale pagando il terno su tutte del metodo non si gioca più si abbandona questa chi vuole è valida per tutto il mese ok io lo ricordo sempre non perdete l'occasione per questo metodo perché questo metodo a breve sarà tolto dal mercato non ci sarà più e poi chi vorrà la previsione la dovrà pagare perciò è meglio che acquistate il metodo ce l'avete per sempre e potete svilupparlo tranquillamente da casa vostra siamo arrivati alla 13 luglio e con questo metodo con questo metodo abbiamo fatto vi dico già un ambo a firenze 48 29 ambo secco milano 5 37 ambo secco siamo già a due ambi è uscito a napoli 7 e 8 terzo ambo secco e ieri sera fuori ruota e terno su tutte terno su tutte siamo arrivati alla tretticesima estrazione avete visto quanti pagamenti ha fatto questo metodo e questo metodo continuerà a pagare adesso è pronta la nuova previsione privata che vi regalo non la posto qua su youtube perché non la posto semplicemente perché voglio che andiamo a incassare a breve e vi dico anche le ruote così almeno potete mandarmi un messaggio privato su whatsapp richiedendola è completamente gratuita andremo a giocare sulle ruote di genova e milano eccola qua vi darò la previsione su genova e milano perciò è pronta basta che mi mandate un messaggio mi mandate un messaggio e io ve la regalo la previsione su genova milano la previsione completa ok ovviamente chi ha vinto io vi consiglio di prendere di fare questo piccolo investimento su questo metodo perché ragazzi i risultati ve li sto facendo vedere giorno dopo giorno allora come promesso ovviamente aspettate un attimo perché per correttezza vi faccio vedere il mio scontrino eccolo qua 48 e 61 se si mette se si inquadra bene eccolo qua 48 e 61 la giocata del 13 07 io vi dico la verità io l'ho giocato abbastanza bene perché ci credevo su questa previsione e questo era lambo special di giugno io l'ho giocato l'ho giocato l'ho giocato bene sono contento mi sono pagato le vacanze estive perché ovviamente sono il primo che crede nelle mie previsioni ed è giusto che io le gioco adesso attenzione al lambo special di luglio mi raccomando cercate di cercate di iniziare piano su napoli palermo c'è lambo special di luglio iniziate a giocarlo piano piano per chi ha il metodo del lambo garantito mi raccomando sapete già cosa giocare chi vuole la previsione su genova e milano mi manda un messaggio in privato e io gliela manderò gratis chi invece è interessato aspettate qua eccolo qua qui c'è il mio numero di cellulare mi manda un messaggio e può prendere tranquillamente il metodo ragazzi da maurizio una buona domenica e noi ci vediamo al prossimo video ciao